I campi elettromagnetici prodotti da telefonia mobile, reti wireless, elettrodomestici, tralicci dell'alta tensione, ci circondano, con effetti sul corpo umano non ancora del tutto spiegati dalla letteratura scientifica. Gli enti regolatori hanno però già approntato linee guida per il contenimento del rischio d'esposizione. Come difenderci? A più E è una tecnologia brevettata che permette di associare alla correzione acustica SnowSound la riduzione delle radiofrequenze attraverso l'accoppiamento di un tessuto SnowSound Fiber e di questo tessuto a base di tecnopolimero metallizzato in argento puro. Dove può essere applicato? Imbottiti acustici SnowSound Sofas, pannelli fonoassorbenti SnowCustom e tende acustiche SnowCurtains. Un telefono cellulare completamente avvolto nel tessuto accoppiato A più E smette di funzionare completamente. L'utilizzo di una tenda, un pannello o un imbottito trattati con tecnologia A più E permette una riduzione che protegge parzialmente il corpo senza compromettere il funzionamento dell'apparecchio. Attenuazione fino al 99% delle onde elettromagnetiche dirette. A più E, tecnologie al servizio delle persone.